Per tutti i fan di Snowpiercer, il conto alla rovescia è cominciato per portarci al futuro post-apocalittico che Bong Joon-ho ha portato sul grande schermo nel 2013. Dopo tanta tesa e una genesi a dir poco travagliata, arriva finalmente su Netflix la serie tratta dalla pellicola che a sua volta era l'adattamento cinematografico della graphic novel Letters per Neige di Jacques Loeb e Jeanne Scherlier. Già all'epoca della sua uscita in sala, Snowpiercer, prima pellicola in lingua inglese di Joon-ho, aveva riscosso molto successo. Adesso, dopo il trionfo agli Oscar 2020, la produzione del regista è ripercorsa al ritrosso dai nuovi fan, mentre è già stata annunciata anche Parasite, che è pronta a trasferirsi in serie tv per HBO. La serie Snowpiercer, che debutta con grandi aspettative, ha per showrunner Graham Manson, ideatore di Orphan Black. Conta sulla regia di James Hayes, che ha firmato gli episodi di Hated in the Nation e Smith Rins di Black Mirror nel 2016-2019, e ha per protagonista il premio Oscar Jennifer Connelly e David Dix. La sua produzione è stata molto lunga e non priva di difficoltà. Il progetto, infatti, risale al novembre 2016, quando TNT ne ordinò il pilot, riconfermandola due anni fa. Poi ci furono alcuni cambiamenti nel progetto e il regista, Scott Derrickson, che aveva girato il pilot, rifiutò di aggiungere delle scene aggiuntive, citando differenze inconcimabili con il nuovo showrunner Graham Manson. Il progetto ha ritrovato integrità tra il 2018 e il 2019, tanto che nel maggio del 2019 la serie è stata rinnovata per la seconda stagione. La serie, una coproduzione Edo Ho Choi, dal film originale Composta di dieci episodi, la serie Snowpiercer sarà disponibile su Netflix da oggi, 10 maggio, in tutti i paesi il cui il servizio è attivo. A differenza del solito, però, gli episodi verranno rilasciati al ritmo di due alla settimana. In un futuro distopico, la Terra vive una nuova era glaciale. Da sette anni, il mondo è una distesa di ghiaccio. Gli unici sopravvissuti convivono a bondo del gigantesco treno Snowpiercer, che con i suoi mille e uno vagoni gira intorno al pianeta senza sosta, mantenendo le classi separate. I ricchi in testa al treno e i poveri in coda. La storia di Snowpiercer mostra cosa succede quando coloro che nella vita hanno conosciuto solo oppressione decidono di resistere, insorcere e ribellarsi. I protagonisti sono Jennifer Connelly, premio Oscar per Beautiful Mind, nei panni della speaker Melanie Cavill e Dave Diggs, interprete del prigioniero Leighton Will, guida la rivolta degli oppressi. A completamento del cast, Alison Wright, Mickey Sumner, Katie McGuinness, Susan Park, Lena Hall, Annalise Basso, Seb Otto, Shayla Wond, Roberto Urbina e Sasha Frollova. Annalise Basso, Gil, Catale, Annalise Basso,